Buongiorno signora Teresina, come nemmo? Tutto bene? Buongiorno signor Beccaro, benvenuti, un pochino di due oriti, se voglio la schiena, le ginocci, l'artrosi, l'età, le occhie, gli anni passano per me. Eh, ciao signora, adesso non si mi ha educato a chiedere, però penso che anche lei ormai è la più solita. Eh, sì caro, io ho fatto il 82 di febbraio, l'età che ha pesato, ma è buono. Eh, ciao, 82 anni, vorrei arrivare a me in forma come lei signora, 82 anni. Eh, vedermi 20 anni fa, ha saltato ancora i fossi per lungo, ha saltato. Madonna, addirittura quello. Eh signora, gli anni passano, comunque la vedo ancora bella, pimpante, fresca, assomiglia la signorina ancora. La tiriamo avanti. Ecco, cosa posso dare questa mattina di buono? Che abbiamo un bistecco di Sorana, che è bello e fresco, è arrivato stamattina, dopo che abbiamo hamburger, che abbiamo fatti con il radiccio, che abbiamo anche... Sì, vogliamo dare intanto due vecchie di macinato, e sì sì, che faccio le polpette a me ne vuoi. Va bene, adesso chi pareccio, dopo? Quei signori che hai un po'? Sì, che abbiamo quei signori, che abbiamo questi qua, che sono un po' grandini, dopo questi qua più piccoli. Mi dà due dei bei grandi, mi dà due dei bei grandi, mio mario col creme, aveva amato. Va bene, adesso chi pareccio, dopo? E... Garo... Garo fegato. Certo. E ora mai è una figa.